Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Questo video è un po' tragico di tutti gli altri Abbiamo finalmente sbloccato la mini macchina per lo scogliattolo Ed è successo veramente tutto perché è arrivato un car armato a spararmi Mentre stavo provando la macchina E mi sono rubato così tanto che l'ho sfidato E sono da combattere un car armato E sono uno scogliattolo io E beh, detto questo, non mi sparo altro Guardate il video fino alla fine Buona visione! Eh? Io sono uno scogliattolo Ok Oh, salve signori, non mi avevo visto Non fate caso, si è addormentato, giuro Allora, hai visto? Si è addormentato? Io ho aggiustato il collo Allora, vi spiego un po' quello che è successo Allora, eravamo rimasti che volevo prendere la macchina Ho farmato un pochetto, da come si vede in basso a sinistra Ma mancano solo due noci dorate Per poter sbloccare la macchina Quindi questo è il momento in cui si sbloccherà la macchina Quindi adesso devo capire dove andare Ehm... E cosa fare soprattutto? Teoricamente qua c'è un banchetto Che stavamo facendo tipo un barbecue Qualcosa del genere Permesso? Permesso? Ok Allora, quale è il problema? Ditemi Vi sono qui per aiutarvi Aspetta, come si sale? Aspetta Qua sopra Uff Ma ui È vero? C'è una valeggetta che non sono andato sopra Wait Un vestito Ma Cosa? Ma No Che figata No, rega Che figata Che figata No, dai, dai Ma che figata assurda Allora, che succede qua? Ah, la bombola del gas non funziona Tranquillo bro, ci penso io Porta via sta cosa Porta Oh Non, non, non Non prendi Non, vabbè Facciamo una cosa Aspetta Mi ricordo Che in questa zona ci sta una bombola del gas Sì, esatto Prendiamola e portiamola Bro Bro, ci penso io a salvare questo barbecue Bro, lascia fare a me Stavo per far esplodere tutto Funziona? Come Non so usare una gri Eh Fra Come funziona? Mi aiuti Bro, ma te lo provo a lanciare Non lo so Mi sono caccato sotto Come funziona? Scusa Eh, l'ho messa Bro Ma come funziona il barbecue? Bro Sono morto Sì Allora, però Wait Ho la ghianda dorata Le scoschi Allora devo fare esplodere tutto Ma, wey Non dimmi pure che Mentre tu pre-mangiati la ghianda Eccetera Non è che forse è la carne Che adesso che è volata Può essere che È cotta Vediamo Carne Carne Oh Wait Signori La carne è cotta Solo c'è un problema Dove sta La carne Perché ne ho trovato solo una Quello è il problema principale Vabbè, mentre tieni tu Ok Devo andare a prendere gli altri E dove li trovo Gli altri pezzi Ok, abbiamo visto un altro In mezzo al Vicino a quella pianta Ok, abbiamo visto un altro pure Vai Lanciamolo Lì giù Aspetta Voglio fare un tiro perfetto Ti prego, aspetta Vediamo Mamma mia, signori Mamma mia Un pro player Si può dire Ma tu che vuoi Ma tu che vuoi Ma vattene via Non mi seguire Oh Allora C'è un altro pezzo E Ne manca un ultimo Dove può stare l'ultimo No, e dai Voglio l'ultimo Il buono lo trovo Io non lo vedo Come faccio Allora, signori Ho perso l'ultimo pezzo di carne Però Abbiamo un'altra cosa Lì vedo una ghianda dorata Wait Come posso salirci Wait, 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 wait Non posso salire Non è fattibile Come faccio C'è un altro vestito Yo Cosa ho trovato? No Ma Ma è bellissimo Va bene Allora Quindi dobbiamo concentrarci Wait, aspetta Dobbiamo trovare Ho il pezzo di Travato Let's go Allora, signori Abbiamo completato Let's go Let's go E mi sa Abbiamo pure la possibilità Di prendere la macchina Se mi danno la ghianda dorata Quindi doppio Let's go Ok, allora Quindi portiamo L'ultimo pezzo di carne Signori Eeeh Vittoria Let's go Sky Dai Guardate la ghianda Eccola No, no Ok, prendi quella Ok Signori Signori È il momento È il momento Signori L'abbiamo qua Davanti a noi Ed è il momento Che sblocchiamo La macchina Oh Ti prego Oh, mamma mia Oh, mamma mia Oh, mamma mia No, io l'adoro, regà L'adoro L'adoro Ma me Eh Cos Eeeh 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 Wait, ma sono lì No Ma ho appena preso la macchina Ma Per chi Daddy Il padre È uno di quei cattivi là Ma No Non accetto questa cosa Io adesso mi vendico Mi Vendico Come ti sei permesso Ad attaccare la mia macchina No, 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 regà No, no Non mi piace questa cosa No, no, no Io non l'accetto Io, no No, come si scende Da veicolo Come si scende No, sa, sa No, non voglio sa Ti prendo per scendere Ok Ok No, basta Prendiamo questa pistola Andiamo Non voglio sapere nient'altro Voglio solo combattere Come si è permesso Ad attaccare la mia macchina La mia macchina No, la mia pistola Aspetta Ok, aspetta Aspetta, ce la posso fare Ok 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 Non posso prendere Lo scendere la macchina Va bene Ok Là Comunque stavo dicendo Come si è permesso Io non accetto sta cosa Non Mi sono accappottato Io sono pronto Io voglio combatterti Ok Vieni qua Sono pronto Dove sei? Infame Non mi fai paura Con il tuo car armato Cioè diciamo 50-50 Perché un car armato È molto potente Però lasciamo stare Ok signori Ah Posso prendere la Uzi Let's go Aspetta Fammi scendere Da qua Aiuto Ok Salgo qua sopra Non ho presa Aspetta Wait 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 Non mi ricorderò Mai tasti Aiuto Ok Prendi Oh Bra Ok Andiamo Allora Devo preparare Che di sicuro Lo incontrerò qua Ci scommetto E dice pure Dice pure il posto In cui dove sono Il bunker Del padre Ma Ok Fatto fuori Mamma mia Comunque non mi aspettavo Un gioco su ste cose Cioè Oh Ok Fatto fuori Mamma mia Non mi ricordo Sparare Dove Sparare Ma invece si ricarica L'arma Allora Spararà Figa Wait Aspetta No 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 E posso investire No rega no Io ho detto Lo sto gioco Cioè Posso investirli pure Cioè È arte Sto gioco Preferisco più investirli Che spararli Onestamente Oh La lava La lava La lava Ok Mi ralenti per una kill Ok Salta Ok Dai Quando arriva Quel tipo Il padre Voglio eliminarlo Cioè Come si è permesso Cioè Rega È una cosa bruttissima Farsi sparare dal cararmato Con la propria macchina Nuova Appena presa Sono pronto a combatterti Dove sei? Ah È un lanciagranate Ok Ok Vai Vai Sì Ma Che figata Ma che Mi sta Tantì Bravo Così devi F Ma No Aspetta Ah no Eccolo il padre Oh no Ne sono un pochetto Tanti Allora Possiamo Ok Il cararmato Dei punti deboli No 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 Non so come si dasha Ricarica Devo rompere le ruote Le ruote No 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 Come faccio il dash Non mi ricordo Ok No Momento 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 Ricarica 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 Disturto di dai Ok Riparazione in 38 Wait In che senso Ma quindi l'ho bloccato E come faccio a danneggiare Aspetta Come faccio a rompere La Non ho capito Wait Ma non posso entrarci Come faccio Ma non mi hanno spiegato niente Aiuto Ah Quello con lancia granate Aspetta Quello con lancia granate Vero Vai Vallo fuori Vallo fuori L'animazione Vai vai Dai Ti prego Troppami lancia granate Così posso farlo saltare in aria Dai 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 Ok No mi hanno dato il lancia granate Ma Che ha fatto Un pazzo Aiuto No 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 Allora 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 Questa cosa non è bella Non è una buona situazione Questa Non è una buona situazione No Non mi montare il cannone È pazzo È pazzo Come faccio No 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 Allora 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 Wait Questi cosi Dove mi saltano in aria Qui cosi secondo me Saltono in aria Ci scommetto Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Devo attaccare un momento No Ok Ok È danneggiato È danneggiato È danneggiato Devo ricaricare velocemente l'arma E pushare Vai 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 No dai non puoi No 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 Aspetta Cerco di salire invece Aspetta Aspetta No no Qualche armi Un'arma 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 Per favore Il fucile Il fucile Il fucile Il fucile Vai 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 Prego Piglialo 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 Tiglielo Dai, dai, prendilo! Prendilo! No, no. Ok, l'ho preso una volta. Ok? Dai, 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 dai. E dovrebbe essere più e più facile danneggiare. Ok, no, il mio lanciagrano è caduto. No, rega. Io come faccio? Ma non riesco a combatterlo! Aiuto! No, 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 no. Ora, posso prendere sto fucile? Oh, grazie. Va bene, non lo posso prendere. Va bene, scusami. Oh! Prendi quell'anciagranante! Io... Io non so che dire! Ok, signori, mi viene in mente un'idea. Prima cosa devo togliere il fucile, perché secondo me è inutile. Devo prendere... Ok, mitragetrici presa. Ok, non lo sto attento, non lo sto attento al cannone. Devo uscire dal veicolo. No, è fastidiosissimo. Ok. Allora... Oh, ok. Facciamo una cosa. Abbattiamo di nuovo tutte le ruose. Dai, vai, 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 vai. Non ti azzardare, venire addosso a me, perché io... Io... Io pazzisco. Ok, va bene. Tu schiantati, bravo. Fai fatti danni da solo. Ok? Distrutto quello. No, 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 no. Allora, ora, ora, devo andare a ricaricare. Aiuto! Dai, dai, vai. Ok? Stai in riparazione, stai in riparazione. Ok, mi hai mento un'idea. Non è che forse... Devo andare qua sotto? Ti prego. C'è qualcosa veramente? Aspetta, vai, vai, vai. Cosa fa? Cosa fa questa roba? Dai! Non più, dai! Ok. Ok, 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 signori. Ok, 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 ok. Ok, l'ho rotto. E ora... Sto dentro, sto dentro. Fa me. No, oh, mi ha buttato via! Ma come ti permetti? Infame! Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ma cosa facciamo fuori quello là, sopra? Ok. Ok, fatto fuori. Ora si puscia! Ora si puscia! Puscia, Gecko! Puscia, Gecko! Vai, puscia, Gecko! Sparalo, sparalo! No, 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 no! Ma? No, no, che non pensavo che era lui, ok. Ok, ricarico. Ma faccio a farlo fuori? Fame! Vieni fuori! Dai! No, 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 no. Oh, no! No, 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 dai, 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 sono a un buon punto, non posso morire, non posso morire. Però non si può avvicinare, cioè non può fare più niente. Quindi è buona questa cosa, è buona, è buona, è buona. No, però può muovere il carro! Questo non è buono. Aspetta, aspetta, prendo il fucile. Può sparare col cannone, mi hanno dimenticato di questo. Dai, prendi quel fucile! No, no, rega, no, no, rega, no, rega, rega, no, rega, non voglio morire per colpa dei guardie, perché io impazzisco se morio per le guardie. Ve lo giuro, io impazzisco e metto a urlare. Falli fuori tutti! Tutti! Mamma mia! Vai, 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 vai fuori tutti, vai fuori tutti! No, 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 ti prego! Rega, rega, non so come faccio ad essere ancora vivo. Ti prego, prendi più ghiande possibile e curati! 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 Wait! 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 Ti prego! Mi ho dimenticato di idea! Sono stupido, sono stupido, sono stupido, sono stupido! Ok, signori, siamo arrivati al punto di prima. Allora, devo eliminare il tipo e poi... Wait, aspetta, ricarica, 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 veloce, veloce, veloce! We don't have time! We don't have time! Fai fuori il tipo, fai fuori il tipo! Dai, 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 dai! No, dai, per favore! No, non ho delle munizioni! Ok, dai! Fai fuori, fallo fuori, fallo fuori! Oh, non muore! Oh, finalmente! Ora, facciamomi fare l'esplosione, tranquillamente! Dai, dai, dai! Mi viene in mente un'idea! Dietro lui ha degli esplosivi, di sicuro! Perché mi ricordo che io volevo sparare per farlo saltare in aria! Che facciamo fuori qua? Ok, fatto, aperto! Dimmi se è giusto quello che ho pensato! Ti prego, sali! Non... No, 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 dai! Ok? Non stai fermo con questo caro armato! No, 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 ok? Ok, funziona veramente? Ok? Ritostare il riparo! Sì, funziona! Funziona! No, 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 no! No, 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 no! Allora, devo prendere la UZI! UZI! UZI, UZIO! UZIO, devi aiutami, ZIO! Allora, devo abbattere le ruote, così non può fare più niente! Vai, 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 vai! Ok? Devo ricaricare, devo ricaricare! Ricaricare, ricaricare! Ti prego, ti prego, ti prego! Prefetto, stai lì! Stai là fermo! Bravo, bravo! No! Ti prego! Ok, perfetto, perfetto, perfetto! Vai, veloce! Vai, vai, vai! Sì! Mamma mia! Non lo prendo così, non lo prendo così! Ok? Allora, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Non lo prendo di me! Dai, ma non sto a lanciare! Lo so, ce n'ho apposta, lo so, ce n'ho apposta! Sì, l'ho buttato, l'ho buttato, l'ho buttato! Sì! Sì! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Oh, che succede? Ahà, che c'è? Non ti puoi più divertire con il tuo carro armatino, eh? Oh, esatto! Che vuoi? Eh, mi sembra un po' esagerato! Ah, è pure per voler... No, no, raga, è bellissimo sto gioco! Lo, lo adoro! C'è tornato in superficie così! Io non so veramente che di! Ho sbloccato una nuova zona? Le sgoschi! Tocca a loro scoprire quella zona! Ma, in un prossimo episodio! Quindi, le sgoschi! Su! C'è tornato in un prossimo episodio!